ciao ragazze buonanotte domani vi auguro una dolce notte una buona sera la notte ci vediamo domani ciao ragazze statemi bene dormite bene ho fatto una bella giornata oggi e noi ci vediamo al prossimo video che sarà domani mattina ciao dormite bene ciao ragazze a presto ciao vi voglio bene like iscrizione commento e attivate la campanella se vi iscrivete ovviamente ciao ciao sono mi sto facendo la famiglia ragazzi mi amano tanto stai guardando come sentirete ballando con le stelle ecco un po' ecco qua buon mille rigorosamente buon mille buon mille buon mille buon mille mi spiego il motivo noi vogliamo ridurre questo tensionetto debito però la volta che abbiamo deciso di ridurre la volta che abbiamo deciso di ridurre non è terminato il video non è terminato il video di ridurre i miei saluti ho deciso di farmi una tisana e sono più una tisana per dormire miglio per dormire miglio ovviamente non è terminato il tempo di racconto che oggi sono stata tutta il giorno fuori casa e niente fuori casa non sono uscita per niente non sono uscita per niente se non è tutto il giorno casa e non ho ripreso perché non mi è voluto di riprendere non lo so perché se può capitare ragazze può capitare e vabbè niente e quindi anche se non ho ripreso pazienza anche se devo dire che l'anno scorso c'è tanto chi ha più in mano ti può mandare di qua e poi ho detto se vuoi venire io ho fatto il camerino e se vuoi venire io ho fatto il camerino e se vuoi venire e che il mio agente il sabato dorme c'è segno a te io sono proprio la notte lì ti conosciamo benissimi io so effettivamente che tu hai creato il gruppo semplice il gruppo di table group e lo Sprout like sia carattato lo Sprout like ah sì lo Sprout as allora sì lo Sprout lo Sprout lo Sprout la semplice tutte è un giro più o meno stop e questo sto guardando se la falla o per falla o per falla mia fortuna per falla o niente voglio col dole un dono per non so trattarmi ma per cinque 4 Se ho sentito questo audio diversificato è perché c'è un intervento sotto alto volume, scusate, perché non ci sento niente. Ma, chiudo, ho tanto, lo sto facendo, ma questo si va bene. Ma stanno registrando? Stanno registrando. Grazie, grazie, grazie. E adesso, a questo punto, che facciamo? Siamo costretti. Siamo costretti. Siamo costretti. Dice il voto unico di Cali. Ma voi Calma, lo sai dire? Eh. Io voglio gustarmi ciascun giurato, voglio gustarmi ciascuna la letta. Non lo so, non lo so. 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 Stanno passando l'effetto. Vieni, ragazzi, io vi lascio e ci vediamo davvero domani. Non so che video farò, ma mi vedrete. Non so questo schermo, questo schermo quello che sarà. Vabbè, ciao. Un bacio. Like e ciao. Ciao.